Giulia, una giovane imprenditrice con una passione per la moda sostenibile, si trova di fronte a un'opportunità che potrebbe cambiare la sua carriera. Marco Rossi, un influencer di moda conosciuto a livello internazionale, la contatta per collaborare a una nuova collezione. Questa proposta inaspettata la riempie di entusiasmo, ma anche di una certa dose di nervosismo, consapevole della grande responsabilità che comporta lavorare con una figura così influente. Con l'energia e la determinazione che la contraddistinguono, Giulia si immerge nel progetto cercando di creare una collezione che non solo rispecchi lo stile unico di Marco, ma che sia anche in linea con i suoi principi di sostenibilità. Ogni capo deve raccontare una storia, unendo l'eleganza e la modernità, con materiali eco-friendly e processi di produzione etici. La sfida è grande, ma Giulia è determinata a dimostrare che la moda può essere sia bella che responsabile. Tuttavia, non tutto procede senza intoppi. Durante le riunioni creative emergono tensioni tra Giulia e Marco. Lui è preoccupato per le esigenze commerciali e teme che l'approccio etico possa limitare il potenziale di vendita. Giulia, invece, è fermamente convinta che la sostenibilità sia il futuro della moda e non è disposta a scendere a compromessi sui suoi valori fondamentali. Nonostante le divergenze, Giulia riesce a convincere Marco a esplorare il mondo della moda etica. Lo porta a visitare fabbriche che operano nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori, mostrandogli come la sostenibilità possa essere un valore aggiunto e non un ostacolo. Questa esperienza apre gli occhi a Marco, che inizia a vedere il potenziale di una collezione che possa fare la differenza. Il giorno del lancio della collezione, l'entusiasmo è palpabile. I capi vengono accolti con grande entusiasmo, non solo dai fan di Marco, ma anche dai media che lodano l'iniziativa come un passo avanti per la moda sostenibile. La collezione diventa un simbolo di cambiamento, attirando l'attenzione su un nuovo modo di concepire lo stile. Con il successo della collezione, Giulia e Marco decidono di continuare la loro collaborazione. Insieme diventano pionieri nella promozione della moda etica, utilizzando i social media per sensibilizzare e ispirare milioni di persone. La loro partnership non solo rafforza i loro brand, ma contribuisce a creare un movimento globale verso un futuro più sostenibile.